Doveva essere la giornata del riscatto per un febbraio orfano del Carnevale per Pietrasanta che si era reinventata a Capitale dell'Amore in occasione del San Valentino. L'iniziativa Love in Pietrasanta aveva addobbato il centro storico con le installazioni dei grandi cuori di rose realizzate dal fiorista Giorgio Lazzerini, oltre ad offrire menu ad hoc nei locali che vi avevano aderito. Tutto sfumato quasi con le restrizioni della zona arancione che hanno costretto i molti che avevano prenotato a dover disdire per l'impossibilità di raggiungere Pietrasanta dai comuni limitrofi e anche gli stessi residenti hanno dovuto cambiare i loro piani per il giorno degli innamorati. San Valentino d'Asporto? Eh sì, non ci resta altro purtroppo, si fa quello che si può. Grazie! Ciao! Una scenettina insieme, un bel pranzo, insomma ci si contava e passerà che si deve fare. In questo momento c'è da adattarsi al momento storico. Sì, oggi sì, sicuramente è un pranzo fuori, ma con queste restrizioni ci accontentiamo di fare un asporto. Un asporto va bene comunque? Ma certo che sì, ma certo che sì, sarà una bella domenica comunque. Passata la rabbia iniziale per i tempi di comunicazione del passaggio a zona arancione, in molti il sentimento prevalente è quello di accettazione misto ad un cauto ottimismo. Ma ascolta, io proprio di indole vado sempre avanti, non è che mi preoccupo di queste cose. Siamo contenti, guarda che giornata, una bella giornata. Almeno quella. Almeno quella. Riesco a fare dei panini, riesco a fare questo asporto così, il panino con il lampredotto si può mangiare anche per la strada. Logicamente dove non ci sono persone che vengono da fuori è difficile poter fare dei numeri. Ma se tra i ristoratori c'è chi è riuscito a sopperire a questa situazione con l'asporto, sono tante le saracinesche abbassate e tavole accatastati nelle stradine del centro di Pietrasanta. In molti hanno deciso di far ripartire le attività dopo l'inverno, in attesa che la situazione sanitaria si stabilizzi. Grazie. Grazie.